Sale la febbre per una giornata, domenica 6 giugno, che sulla carta potrebbe ridare la tanto auspicata Lega Pro al Campobasso per il tramite. Di una sola coincidenza, vittoria dei Rossoblu contro la Cenerentola Sant'Elpidio e contestuale pareggio sconfitta del notaresco contro il Vasto Girardi. Stanti queste circostanze il Campobasso riguadagnerebbe il professionismo con tre turni di anticipo rispetto alla chiusura del torneo. Diversamente, la Lega Pro potrebbe diventare un fatto matematico a partire dalla settimana prossima, quando i Rossoblu di Cudini giocheranno a Rieti e quelli di Epifania recanati. Anche lì, in caso di vittoria contestuale delle due squadre per il notaresco, sarebbe poi impossibile colmare il gap di otto punti con il Campobasso. Sono questi discorsi che appartengono alla forma, la sostanza racconta, di una città che è in grosso fermento per un evento atteso dopo anni, di insuccessi o promesse mai mantenute rispetto a obiettivi di alta classifica. Insomma, per un anno e dopo tante stagioni sportive, ai programmi stilati in estate, si sono accompagnati i risultati del campo. Davvero un qualcosa di non usuale per la Campobasso calcistica. In mattinata un gruppo di tifosi si è recato a Campodipietra per salutare ed incitare la squadra nel corso degli allenamenti e in vista della partita di domani. Belle scene che arricchiscono le attese in vista delle sedici di domani a Selvapiana. La cavalcata vincente sta per ricevere il sigillo finale. Le 20 vittorie verranno incrementate ancora di quei 5 punti necessari affinché i giocatori di Cudini, lo staff e la società possano regalarsi un traguardo che potrebbe restituire slancio alla città e, perché no, anche alla stessa regione. Nei tempi del Campobasso della Serie B, i cosiddetti tempi d'oro, c'era un'intera regione a tifare per i colori rosso-blu. Continuano le iniziative intraprese da tanti commercianti del capoluogo o di semplici privati che adornano i balconi delle rispettive abitazioni di bandiere rosso-blu. Nelle foto vediamo l'esterno della vetrina di Graziano Home, negozio in centro-città, ma anche il Centrum Palace, che ospita alcuni membri della squadra dello staff, ha deciso di vestirsi di rosso-blu prestando davvero un'atmosfera affascinante alla notte campobassana. Il Campobasso chiede ai già retrocessi del Porto Sant'Elpidio altri tre punti utili per tornare nell'universo della Lega Pro, un torneo che sta per emettere un ultimo importante verdetto. Chi sarà la quarta squadra a salire in Serie B dopo Como, Perugia e Ternana? A dirlo saranno i play-off che domani vivranno le semifinali di andata, Albinoleffe, Alessandria e Padova-Avellino. Una di queste quattro approderà fra i cadetti. Tornando alla sfida del Campobasso contro il Porto Sant'Elpidio, ricordiamo che i cancelli di Selvapiana apriranno due ore prima per consentire l'ingresso dei soli mille ammessi all'interno della struttura. All'esterno sarà facile immaginare tanti tifosi festanti ad aspettare la fine dell'incontro. Dalle 16 la partita verrà diretta dal signor Gasperotti di Rovereto.